Intendiamo segnalare quelle disfunzioni, quelle situazioni a rischio che davvero gravano parecchio sulla pubblica incolumità e gravano appunto sulla quotidianità, sul vivere quotidiano. Si auspicano sempre miglioramenti ma in questa città, Taranto, sembra molte volte che i terminali del cervello siano, passatemi l'espressione, come dire, invertiti. Siamo con un amico, si chiama Pietro Avellino. Cosa ci segnala? Buongiorno Luigi, sentite, io segnalo all'amministrazione comunale la possibilità eventualmente di invertire il senso di marcia di via della Tarantola, la stradina che costeggia la Sarama per intenderci, utilizzata in precedenza dai lavoratori dello stabilimento dell'arsenale della Marina per il deflusso pomeridiano per andare in direzione di San Giorgio. Ricordo che attualmente questo senso di marcia da qualche anno a questa parte è stato invertito, quindi risulta essere da San Giorgio verso la città. Ecco, noi chiediamo l'inversione, l'inversione in modo tale da consentire il deflusso degli operai appunto ed evitare che gli stessi operai si immettono sull'arteria cittadina e intasano il traffico cittadino già congestionato durante le ore di punta. Immaginate un po' durante l'uscita dell'orario scolastico e quindi ancora di più intasiamo il traffico cittadino. Grazie a tutti.